Arriva l'ok dalla terza commissione consigliare del comune di Sulmona per un max intervento da circa 795.000 euro per i lavori da eseguire sulla rete fognaria nella zona sud della città, ovvero tra via De Gasperi e via Montesanto, volto a dividere le acque nere dalle acque bianche onde evitare problemi residenti della zona. Ma ancora una volta la maggioranza non aveva i numeri per tenere il numero legale in aula, per questo, vista l'indisponibilità per motivi personali del consigliere Di Rienzo, ci ha pensato Francesco Perrotta ad evitare una nuova diserzione nell'interesse esclusivo della città, come precisa Italia Viva. La maggioranza è liquefatta, si palese incapace di governare questa città. Italia Viva rimane fermamente una forza di opposizione, scrivono i consiglieri Perrotta e Pingue, ma davanti a un finanziamento di oltre 700.000 euro per lavori straordinari, non si può esitare né indulgere al facile ostruzionismo, ma si è il dovere di agire nell'interesse esclusivo della comunità amministrata. Per queste ragioni oggi, in serie di commissione consigliare, il rappresentante di Italia Viva non ha prestato l'ancora di salvataggio alla maggioranza, ma si è unicamente preoccupato di tutelare 700.000 euro di opere pubbliche per la città. Lo faccio con spirito di partecipazione. Qui noi abbiamo anche a via del cavallaro, abbiamo dei grossi problemi ancora per rifare la strada e ci sono ancora degli innesti da fare, delle fogne che ancora vengono fatte. È una strada totalmente dissestata. La strada parecchie volte ha fatto dei sopralluoghi. Il passaggio in commissione, come ha fatto notare l'assessore comunale Salvatore Zavarella, si è reso necessario per l'autorizzazione all'esproprio di un terreno privato. Ogni volta che purtroppo ormai si susseguono questi acquazzoni così cospicui, la rete Fognari vanno in crisi e praticamente sbottano in maniera molto basilare. E quindi bisogna intervenire affinché vengano risolti questi problemi. La SACA investe sul comune di Sulmona 795.000 euro. Questo passaggio in consiglio comunale e quindi in commissione è dovuto al fatto che in un tratto preciso di via Alcide di Gaspari bisogna occupare uno spazio privato. E quindi va fatta una procedura di esproprio. E pertanto questa delibera deve essere sottoposta al voto del consiglio comunale. Grazie a tutti.